Potrebbe giungere prestissimo ad una soluzione il problema relativo alla perdenza idrica in via Mauro di Mauro a Favara. La questione era stata sollevata sabato scorso alla nostra redazione dall'anziana favarese Anna Argento. Ogni qualvolta arriva l'acqua nella via, aveva detto la signora, il prezioso liquido si riversa nel mio terrazzino con conseguente infiltrazione. Problematica che è stata prontamente attenzionata dalla società gestore del servizio idrico integrato, ovvero Girgenti Acque. Da Contrada San Benedetto, l'addetto stampa Rita Baio, ci fa sapere che domani una squadra di operai si recherà sul posto per eseguire l'intervento di riparazione. Lavori che non dovrebbero richiedere tantissimo tempo. L'addetto stampa comunque precisa che del problema della signora Argento la società non era a conoscenza, in quanto il guasto era stato segnalato solo al comune di Favara.